Musica Sono ormai trascorsi 22 anni da quando Giovanni Paolo II venne ad Assisi per la prima giornata di preghiera interreligiosa. Quel giorno accorsero ad Assisi anche i capi delle più importanti religioni del mondo. Da quell'esperienza nasce oggi Assisi in Mosaic, evento che si candida di venire la prosecuzione sotto il profilo artistico, musicale e culturale di quello storico incontro. Dottor Della Porta, qual è lo spirito che anima questa manifestazione Assisi in Mosaic? Vorremmo creare qui ad Assisi, che sembra essere proprio il luogo deputato, riconosciuto non solo dagli Assisiati o da noi italiani, ma universalmente riconosciuto. Vorremmo creare questo evento in cui vengano rappresentate, ma non solo come una mera spettacolarità, le manifestazioni d'arte che scarturiscono dalle istanze spirituali dei vari popoli e delle varie religioni. Naturalmente senza forzare ad un sincretismo religioso che tutto confonde, ma anzi proprio per rispettare al massimo ogni singola manifestazione d'arte ed ogni singola religione, contestualizzando ciò che viene fatto sia dal punto di vista naturalmente religioso, storico, sociologico, eccetera. Proprio perché non ci si confonda, ecco perché Mosaic, ogni tessera è importante per creare poi quella che è l'immagine che viene letta come veduta d'insieme. Questo è ciò che ci interessa, restituire anche l'interpretazione giusta a quello che è stato definito da, voglio dire, personaggi molto più eminenti di me e di noi, lo spirito di Assisi. Proprio per incarnare meglio lo spirito di Assisi e renderlo forse più visibile avete pensato a un logotipo, a un concorso. In cosa consiste questo concorso e quali stati verranno coinvolti? Allora noi proprio perché cerchiamo una partecipazione di varie rappresentazioni, quindi sarà, come diceva Maurizio, una manifestazione artistica delle varie ricerche di spiritualità dei popoli, cerchiamo proprio di allargare, di far sì che già dalla partenza questo progetto ci permetta di collaborare con varie culture, con vari popoli. Il nome già nell'essenza, diciamo mosaic, perché? Perché proprio nelle varie tessere, che sono diverse in natura, in colore, anche in materiali, però nell'insieme danno una manifestazione unica. Nel payoff che abbiamo scelto, che è From My Earth, che se lo andiamo a vedere, all'inizio e alla fine abbiamo messo un H, perché? Perché dal mio cuore si toglie a mano.